Ancora un maxi blitz antidroga a campo di Marte ad Arezzo. Ci troviamo nel quartiere di Saione, uno degli angoli più caldi della città. Ancora purtroppo troppo spesso teatro di episodi di microcriminalità. Nel pomeriggio di martedì Polizia di Stato e Municipale hanno così dato il via all'operazione finalizzata al contrasto di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Passati al setaccio i giardinetti e l'area dell'ex palazzo Standa, in tutto circa 50 gli agenti che hanno preso parte al blitz in azione anche i cani antidroga delle unità cinofile. E' così scattato l'arresto per un pusher trovato con 20 grammi di marijuana nascosta in borsa e già suddivisa in dosi pronta per essere ceduta. Due invece le denunce ed altre due le segnalazioni alla prefettura di assuntori di sostanze stupefacenti. La nuova retata arriva solo a due settimane di distanza da un altro maxi blitz messo in piedi sempre nella stessa zona dove l'allarme dei cittadini resta alto. Le manette in quel caso erano scattate per due persone sorprese con hashish e marijuana dentro ad un negozio etnico del quartiere di Saione. Arrestati entrambi in flagranza di reato erano stati liberati poco dopo. E sempre a Campodimarte infine nei giorni scorsi si era verificata anche un'aggressione ai danni di due agenti della polizia municipale.